Ristretto italiano. I media internazionali scrivono di noi. Meno tre. Meno tre giorni a Capodanno. Buongiorno a tutti. Potremmo dire anche meno uno, cioè meno un giorno a San Ruggero, ma questo è un altro film, ne parliamo domani. Vediamo invece alla nostra consueta rassegna internazionale di notizie sull'Italia. L'Italia dà il benvenuto alla Ocean Viking e agli oltre cento migranti che ha a bordo. Che letta così oggi sulla stampa internazionale porta a dire, almeno a me, finalmente, salvo scoprire poi che il porto sicuro è quello di Ravenna. Quattro giorni di navigazione in più, in modo che loro, i profughi, abbiano almeno 96 ore in più per riflettere sul valore dell'accoglienza. E la nave di soccorso, 96 in meno, per salvarne altri, altri disperati. Tornando a uno dei tanti articoli, quello che vi sto leggendo è sulla testata greca prototema, scopro che i migranti sono stati soccorsi l'altra notte in acque territoriali da reparti di Malta. E che tra loro ci sono 23 donne incinta, una trentina di minorenni non accompagnati e tre neonati. Leggo anche che erano su un gommone sovraccarico nell'oscurità totale. Un'ultima considerazione. Dalle coste africane a quella siciliana ci sono 300 chilometri circa di mare. Per Ravenna ne vanno aggiunti altri 1700 circa. E a proposito di immigrazione, era di sicuro appire internazionale la notizia del figlio di Salvini, rapinato del telefonino da tre nordafricani, e che se lo è visto restituire da un fruttivendolo egiziano. Le cronache raccontano che venerdì sera scorso Federico Salvini, che ha 19 anni, stava tornando a cena a casa a Milano, quando è stato avvicinato da tre giovani, presumibilmente magrebini, che prima gli hanno chiesto una sigaretta e poi, minacciandolo con una bottiglia rotta, hanno preteso il cellulare. Cellulare che poi i tre balordi hanno proposto come un affare al negoziante, il quale, insospettito, ha preso tempo e ha avvisato la polizia. A ognuno la sua morale. La mia, molto banale, è che le brave persone e quelle cattive sono ovunque, e che la provenienza non c'entra. E, tornando a Ravenna, è salutata con interesse anche all'estero la decisione di un preside della città romagnola di concedere due giorni di assenza al mese per le studentesse che soffrono di dolori mestruali. Assenze che non verranno conteggiate nel computo di quelle che possono invalidare l'anno scolastico. Ne parla dalla Spagna, dove questa forma di congedo è già una prassi, l'agenzia di stampa EFE. Nel nostro paese una normativa del genere non esiste e quella dell'Istituto d'Arte Nervi Severini appare una prima volta. La delibera è stata adottata al Consiglio di Istituto il 20 dicembre scorso ed ha avuto 10 sì e 3 no. Il dirigente scolastico ha dichiarato che, prima di proporla, ha studiato le normative vigenti in altri paesi, come la Spagna appunto. A notazione, nel 2016 il PD aveva proposto anche in Italia un disegno di legge che permettesse di assentarsi sia dal lavoro sia dalle lezioni per dismenorrea, ma un decreto legge che non è mai stato approvato. Parlando di tutt'altro, il Wall Street Journal dedicava ieri un lungo servizio alla guerra tutta italiana del tartufo, ovvero ai colpi bassi che i cercatori non si risparmiano fra di loro, compreso l'avvelenamento dei cani dei concorrenti. L'inchiesta della giornalista new yorkese parte da Alba al seguito di Kira, una cana poliziotta, lasciatemi dire cana che trovo più affettuoso, una cana poliziotta addestrata a individuare le polpette avvelenate senza però mangiarle. E infatti da un paio di anni leggo che la polizia ha preso autonomamente l'iniziativa di fermare questa strage. Autonomamente, in quanto, sempre a quanto leggo dal Wall Street Journal, i cercatori cercano di tenere nascoste le pertite subite, minimizzando il fenomeno, e gli unici dati disponibili sarebbero quelli dei veterinari che affermano di salvare mediamente ognuno di loro 8-10 cani l'anno. Un cane da tartufo che è allevato allo scopo fin dai primissimi mesi di vita è naturalmente preziosissimo ed è in grado di produrre al proprietario migliaia di euro di guadagni l'anno. Centinaia di prodotti di origine italiana e ristoranti italiani all'estero usano la parola mafia o altre ad essa comunque collegate per attrarre clienti e consumatori. Ma che brutta cosa! La denuncia della nostra Col di Retti è approdata sul periodico de'Espagna. Dove la trovo? L'associazione italiana ha già censito quasi 300 ristoranti e decine di prodotti gastronomici di questo tipo. Dal whisky chiamato Cosa Nostra Shot è venduto in una bottiglia a forma di mitra, al vino portoghese Taglia Mafia Pistol con una macchia di sangue disegnata sull'etichetta, ancora al caffè bulgaro Mafiozzo, chissà che questo non sia comunque il cognome del produttore, ma la Col di Retti dice di no, e ancora ancora al dressing americano Wicked Cosa Nostra. Un fenomeno odioso, denuncia il sindacato italiano, che in rete ha anche trovato il libro di ricette The Mafia Cookbook, il ricettario della mafia, e un portale di caramelle chiamato Candy Mafia. E non è mica finita. In Finlandia c'è il ristorante Don Corleone, in Germania il Burger Mafia, e negli Stati Uniti il Falafel Mafia Food Truck. Nemmeno noi spagnoli siamo immuni da questo malcostume, ammette il quotidiano madrireno, con 60 posizioni censite e segnalate. Unica cosa degna di merito, ancora è il periodico De Spagna, che scrive, e che nel 2018 a Saragozza, a un ristoratore, venne negato il nome la mafia siede a tavola per la sua catena. Il Tribunale lo giudicò contrario alle regole di ordine pubblico. Per oggi è tutto. Vi saluto. Buon 29 di dicembre. Noi ci sentiamo domani.